Grazie ad una perla di Elilali il Milan Primavera riesce ad acciuffare il pareggio proprio allo scadere avevano dato 5 minuti di recupero assegnato al sesto settimo minuto già che si era stato interrotto per qualche momento il gioco comunque un gran bel gol di Elilali lo vedete qua l'altro gol del Milan segnato da Antonio Galla come sempre ve lo riporterò sul mio Twitter gara quindi terminata 2 a 2 è passato il vantaggio il Napoli per 2 a 0 in una gara che Milan Primavera aveva iniziato abbastanza bene ha preso poi subito gol dal Napoli ci hanno messo un po' per riprendersi iniziato il secondo tempo doveva montare l'arrembaggio ha segnato di nuovo il Napoli il gol del 2 a 0 poi alla fine negli ultimi 15 minuti ci ha pensato prima Galla di testa poi sempre Galla con un bell'assist per Elilali che ha fatto questo gol fenomenale era presente in panchina oltretutto Nirash Pereira altro elemento dell'Under 15 portato in primavera assieme a Camarda e Liberali questi ultimi due invece non erano né in campo né in panchina quindi presumo che ritorneranno o nel Milan Under 16 scusate non nell'Under 15 ho sbagliato oppure magari verranno promossi nell'Under 17 o nell'Under 18 lo staremo a vedere nelle prossime partite questa settimana gioca anche il Milan Under 17 e il Milan Under 15 il Milan Under 16 invece giocherà il 22 gennaio non mi stranisce il fatto di non vedere Camarda quest'oggi convocato già che dalle recenti parole del responsabile del settore giovanile del Milan si era capito come la società rossonera volesse tirar via un po' le pressioni da questo giovane ragazzo che ricordiamolo ha 14 anni per riportarvi infatti le parole di Angelo Carbone appunto attuale responsabile del settore giovanile del Milan ha detto testuali parole è una cosa bellissima che si parli del calciatore lo merita come ragazzo ha ottime qualità dimostrate anche dalle prestazioni ma il suo percorso è solo all'inizio mettergli addosso troppe aspettative non so se sia la cosa migliore per lui e mi chiedo se sia giusto parlare così tanto di lui discorso che casualmente si lega a quello fatto da Moncada nel video che vi ho riportato proprio ieri che spiegava come in Francia si parli proprio meno anche di calci ci siano meno pressioni per i calciatori e Angelo Carbone ovviamente ha ragione a dire che un ragazzo di 14 anni magari viene riempito di aspettative troppo alte purtroppo però ragazzi così è l'Italia è vero che negli ultimi anni questa cosa è sempre un aumento se penso ai Maldini, ai Del Piero, Costa Curta, Albertini non so mi vengono in mente italiani forti che sono stati in una grande squadra poi ne hanno fatto la storia e ovviamente erano altri tempi adesso è tutto molto più grande però ragazzi se ce la fa Camarda nel settore giovanile del Milan come ce lo può fare Hendrik che agli stessi anni è stato pagato non so se 80 milioni di euro dare al Madrid credo che alla fine il calcio sta cambiando piano piano ci si dovrà abituare e bisogna anche dirlo che i giovani di oggi non sono più i giovani di tempo fa quindi ha ragione Angelo Carbone dire che non bisogna mettergli troppe pressioni e quant'altro però bisogna anche capire che i tempi stanno cambiando se no cosa fai con Camarda lo tieni nell'under 15, poi 16, 17, 18 non lo fai mai passare in primavera poi lo porti in prima squadra lo fai stare in panchina perché cioè no ragazzi il mondo è così se deve giocare in primavera è perché meriterà di giocare e giocherà senza pensare che vanno in televisione e questo quell'altro perché ragazzi il mondo cambia e bisogna sapersi adattare poi come sempre sta anche a noi tifosi non esaltare troppo buttare giù il ragazzo la prima prestazione negativa perché i giornali per fare notizia parlano sempre lasciamoli parlare però poi sta anche a noi a non andare a idola 3 prima e poi dire è scarsissimo questo giocatore cioè diamoci noi tifosi tutti piano anche se io credo che noi comunialisti siamo abbastanza bravi in questo poi c'è ovviamente sempre qualcuno che si esprime in maniera un po' più potente però noi diciamo che siamo sempre bravi ad aspettare i giovani crash ce l'abbiamo visto con Paperuma lo stiamo vedendo adesso con Decaytelare che comunque lo stiamo continuando ad aspettare quindi ragazzi Camarda secondo me è nella società giusta per sin da subito, sin da adesso 14-15 quando poi arriverà a 16 anni inizierà a far parte primavera, prima squadra e speriamo che cresca tranquillamente ma non facciamoci poi neanche prendere da troppe cose stampa o non stampa perché come dico Hendrick in Brasile è stato pagato un sacco da Real Madrid credo che avrà molta più pressione a lui sulle spalle rispetto a quanto ce ne ha Camarda che comunque è nelle giovani del Milan e non hai 80 milioni sul croppone della squadra più famosa del mondo che ti aspetta cioè stiamo tranquilli e aspettiamo il nostro giovane talento nel mentre godiamoci questo bel gol di Elilali anche per questo video è tutto come sempre un bel mi piace al video e ci vediamo alla prossima